Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo oggi la mia Top 11 per la giornata numero 3 al Fantacalcio. Partiamo subito bene con un bel like che serve per supportare questo contenuto, ma non solo. Ricordo a tutti che il like alla Top 11 allontana la Iella dal nostro Fantacalcio, per cui se vogliamo zero sfiga, zero sfortuna, il like dobbiamo lasciare. Ricordo anche, se non sei iscritto, iscriviti al canale, importantissimo, perché nei prossimi giorni arriveranno una valanga di contenuti a tema Asta di Settembre e Aste di Riparazione, oltre che scambi e vari live, quindi iscriviti, fortemente consigliata come operazione, per non perderti nessun nuovo contenuto a tema Fantacalcio. Che si fa nel video di oggi? Si fa la formazione di consigliati, schierati in un 3-4-3, ma attenzione, perché consigliati banali li lasciamo, agli altri noi facciamo i nomi seri, facciamo una Top 11 fra certezze e scommesse, evitando i nomi banali come i top di reparto, perché a dire Osimoen va schierato, Lautaro va schierato, Teo Hernandez va ammesso, siamo capaci tutti. E dobbiamo dire anche che nelle prime due giornate ci siamo tolti qualche soddisfazione, come ad esempio un Candreva quando fa doppietta, un Rafia ad esempio in gol con il Lecce alla scorsa con una prediction clamorosa. Vediamo in questa giornata che cosa riusciamo a fare. Ricordo che in descrizione trovi tutti i link, se vuoi supportarmi, il link per gli abbonamenti al canale, attenzione, perché tra qualche giorno, non appena terminerà il calcio mercato, darò le mie fasce in esclusiva agli abbonati o a chi si abbona a Fantalab dal link che c'è in descrizione. L'abbonamento al canale per avere le fasce costa 1,99€ al mese, l'abbonamento a Fantalab invece è un abbonamento annuale che costa 9,99€ per tutta la stagione, solo se ti registri con il link che trovi in descrizione o usando il codice sconto Fantavirus. Detto questo però ragazzi, ora partiamo con la nostra top 11. Ovviamente andiamo per gradi, si parte piano, con calma, dalla porta dove il portiere titolare per questa giornata è Vanja Milinkovic Savic. Ha preso gol a balanga contro il Milan. Ha avuto una giornata sicuramente storta, una giornata nera, affronta però in casa propria il Genoa. Può tornare qui in il Torino sui propri passi, su un buon rendimento casalingo e Vanja può essere autore di una buona prestazione. Quindi il riscatto è per lui la parola chiave. Come difensori ci metto tre nomi abbastanza importanti. Il primo è Bremer, difensore della Juventus. La scorsa giornata fa malino, però per me non è una grande bocciatura e va riproposto comunque anche contro l'Empoli, anzi soprattutto contro l'Empoli visto che la Juventus dovrebbe avere una partita sulla carta facile. Bremer sì, non è stato al top nella scorsa giornata ma c'è da dire che non sono solo sue le colpe del flop Juventus contro il Bologna. Io quindi la chance a Bremer gliele adò comunque anche per un giocatore che può portarci questa giornata il 6 e mezzo e ricordiamoci che è un ottimo saltatore quindi potrebbe mettere la palla in rete con un'inzuccata vincente. Altro nome dell'inzuccata potrebbe essere Malik Ciao del Milan. Partita tostissima, big match contro la Roma. Il Milan non è una squadra forte sui piazzati, la Roma invece è fortissima. Potrebbe però esserci una situazione di controtendenza e Ciao riuscire a risultare decisivo. Ma a prescindere dalle ipotesi di un clamoroso gol di Ciao lui ha un profilo valido anche per il modificatore di difesa 6 e mezzo all'ultima e contro una Roma che non dovrebbe giocare con Lukaku di bala fuori per l'infortunio potrebbe insomma ben gestirsela a livello difensivo la squadra rossonera. Terzo nome a chiudere Zappacosta che viene da un 5 bocciato quindi contro il Frosinone io però credo ancora in lui, lo ripropongo per questa terza top 11 quindi seconda volta di fila in top 11 la scorsa volta abbiamo sbagliato certamente Gasperini ci ha messo il suo perché lo fa uscire al 45esimo in 45 minuti si può dimostrare veramente poco ma io non smetto di credere in lui perché un profilo da bonus può riscattarsi proprio quando qualcuno smette di credere in lui. Andiamo adesso al centrocampo dove troveremo quattro nomi perché la nostra formazione è un 3-4-3 il primo nome è Ciurria Atalanta-Monza e la sua partita partita sicuramente non facile per i Brianzoli però mi aspetto una gara molto aperta una gara che può essere ricca di gol, ricca di occasioni attenzione perché Ciurria è un giocatore fortissimo validissimo che sull'esterno può risultare decisivo e attacca sulla fascia meno forte dell'Atalanta di conseguenza anche difende sul lato meno forte della Dea può quindi cavarsela innanzitutto con una sufficienza e perché no portarci anche un bel bonus secondo nome un nome importante che Luis Alberto c'è il big match contro il Napoli la Lazio fino ad ora è stato un vero e proprio flop zero punti in due partite lui comunque è stata la luce in mezzo alla tempesta della Lazio il giocatore che ha giocato meglio di tutti giocatore poi forte sì c'è il big match ma i giocatori forti per me vanno messi comunque tira punizioni tira corner quindi chance per portare un bonus ci sono e chissà che non possa essere magari l'uomo decisivo di questo match con magari anche il gol che consegna alla Lazio la prima vittoria di questo campionato come terzo centrocampista vado a mettere Sandy Lovric numeri importanti per lui nonostante non abbia portato bonus in queste prime due gare di campionato super al centro del progetto di Inese leader assoluto di questa squadra tira tantissime in porta 3,6 tiri in media gara e un tiro in porta a partita un giocatore il quarto con numeri molto simili a quello di Lovric ma che già timbrato il cartellino nella scorsa e può provare a rifarsi e Luis Ferguson che affronta il Cagliari una bella partita può far bene e anche lui tira veramente tantissimo ragazzi tanto 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 addirittura tira più di Lovric e anche con più precisione c'entra più volte alla porta quindi attenzione a Ferguson nome da non sottovalutare il nome consigliato per questa terza giornata e quindi ve lo inserisco in top 11 andiamo adesso all'attacco scopriamo il tridente dove puntiamo su due esterni italiani il primo è Federico Chiesa della Juventus affronta l'Empoli la scorsa giornata è rimasto a secco di bonus la Juventus proverà ad avere magari una voglia di rivalsa dopo il pareggio contro il Bologna Chiesa darà sicuramente come sempre tutto se stesso giocatore importante un giocatore che comunque da seconda punta può far veramente molto molto bene come secondo nome ci mettiamo Christovic confermato dopo il gol alla scorsa gol all'esordio partendo dalla panchina questa volta sarà la prima gara titolare prima gara da titolare contro la Salernitana che dietro io personalmente non vedo benissimo la vedo molto meglio a livello offensivo quindi Christovic potrebbe cavarsela e perché no potrebbe risultare anche una scommessa vinta di questa terza giornata al fantacalcio come ultimo nome ci metto Mimmo Berardi che finalmente dovrebbe giocare titolare avremo su di lui le formazioni ufficiali che poi scioglieranno appunto il dubbio perché il Sassuolo gioca per primo contro il Verona partita sulla carta accessibile lui può far bene sì c'è qualche dubbio sulla sua condizione fisica perché non ha fatto tutta la preparazione con la squadra ma comunque arriva pronto arriva preparato arriva soprattutto tutelato quindi le speranze per far bene ci sono tutti poi lui è un giocatore importantissimo che batte tutto batte anche rigori quindi sicuramente non va sottovalutato al fantacalcio bene ragazzi per questo video è tutto ricordo di lasciare un bel like a questo video per supportare questo contenuto se non sei iscritto al canale iscriviti e noi ci vediamo prossimamente con nuovi contenuti interessantissimi a tema fantacalcio e attenzione perché l'asta di riparazione è alle porte di riparazione grazie a tutti